Nel nostro salottino di pietra abbiamo ospite Eleonora Novelli-Gazzotta degli Amici dell'Ant. Giusto? Esatto. Cosa ci vuoi parlare oggi? Visto che c'è un cartellone. L'associazione Amici Ant sta organizzando un evento molto carino per settembre che si chiama Eubio Chef. Io vi vorrei parlare di Eubio Chef. Eubio Chef, vedete la testa di Barbieri mozzata, fa parte, è il seguito di una campagna di prevenzione che la fondazione Ant sta facendo e al quale Bruno Barbieri si è gentilmente prestato, che vuole insegnare una buona educazione a tavola. C'è la sua testa mozzata su un vassoio proprio per stare a testimoniare che anche a tavola bisogna usare la testa per una buona qualità di vita come prevenzione ai tumori. Questo perché noi facciamo raccolta fondi per aiutare, per supportare la fondazione Ant che segue più di 4.000 pazienti al giorno oncologici con un livello di qualità assistenziale elevatissima grazie ai nostri 200 medici che operano in 9 regioni italiane. Una qualità di assistenza elevata che quindi va retribuita. I nostri medici sono pagati per seguire il paziente 24 ore su 24 e anche il giorno di Natale. Noi dell'associazione Amici Ant facciamo quindi raccolta fondi per permettere che questa assistenza domiciliare completamente gratuita possa andare avanti e anzi per uscire ad esaudire la sempre maggiore richiesta di assistenza che viene fatta alla fondazione Ant. C'è una richiesta che aumenta del 4% ogni anno. Sono cifre notevoli ecco quindi noi abbiamo un lavoro molto grosso da fare e ObioChef rientra rientra proprio in uno di questi eventi raccolta fondi per la fondazione Ant. In 29 cosa succederà? Allora noi vogliamo chiediamo alle persone di inviare una loro ricetta salutare ovviamente. Prima del 29? Sì, entro il 14 di settembre vorremmo ricevere le vostre ricette al sito eobiochef.it. Una giuria composta da i più bravi chef della città di Bologna, sono in 8-9 e mi piace elencarli. Spero di non dimenticarne uno, comunque abbiamo Marco Fadiga del Fadiga Bistrò, abbiamo Tiziano del ristorante La Terrazza, abbiamo un elenco che non ne voglio lasciare fuori uno, quindi ve li leggo. Mario Ferrara dello Scacco Matto, Marcello Leoni del ristorante I Leoni, Antonella Mavilla del Sale Grosso, Aurora Mazzucchelli del ristorante Marconi, Massimiliano Poggi del ristorante Al Cambio, Ivan Poletti della cantina Bentivoglio e come ho già menzionato prima, Tiziano Zirondelli della Terrazza. Insieme anche al comico Vito, questi ristoratori faranno parte di una giuria che sceglierà una ventina delle ricette migliori che verranno eseguite in una bella serata al quale chiederemo al pubblico bolognese di partecipare. Dove sarà? E sarà al ristorante I Leoni, dove è la sede dell'Unipol Banca, che è il nostro sponsor di questo bel evento. Anzi, dobbiamo ringraziare l'Unipol Banca che ci permette di coprire le spese, per cui l'offerta minima che verrà fatta per partecipare alla serata viene devoluta completamente all'assistenza domiciliare della Fondazione ANG. In questa bella serata ci sarà lo chef più stellato, diciamo, italiano, che è la testa mozzata, che verrà a scegliere, assieme agli altri giurati, quattro premiati. Under 26, perché ci piace sempre coinvolgere i giovani nei nostri eventi, un premio per la donna che ha eseguito il piatto migliore, l'uomo, e un premio speciale che sceglierà proprio Bruno Barbieri, che sarà la star della nostra serata da Marcello Leone. Quindi, signori, ma inviate via mail dove? E signori, invia mail, qual è la mail? e obbiochef.chiocciola.ant.it Mandateli, magari con una bella foto, perché se riusciamo faremo anche un libro di ricette dopo, magari con una bella spiegazione sul perché avete scelto questo piatto e le caratteristiche appunto salutari del piatto. Grazie a tutti.